L'attenzione al tema della sostenibilità ambientale è sempre più rilevante. Lo ha dimostrato anche la numerosa partecipazione degli studenti bellunesi alla mobilitazione generale a favore del clima Friday for Future. In questo contesto si inserisce anche il nuovo progetto Ambientiamoci, proposto congiuntamente da Insieme Si Può, Scuole in Rete, il cantiere della Providenza Onglus e Rotary Club Belluno, presentato in occasione della Settimana Mondiale dell'Acqua. Questo è il cappello, diciamo, e sotto questo grande cappello ci stanno due progetti in particolare. Il primo è Non abbiamo un pianeta B che si rivolge in particolare alle scuole di tutti gli ordini e i gradi ed è un progetto di formazione attraverso dei percorsi proprio che riguardano l'ambiente, la sostenibilità e il confronto tra nord e sud del mondo. E il secondo livello invece si gioca attraverso le emittenti radio della provincia, ecco, e attraverso un programma radiofonico in dieci puntate. Questa sarà la prima edizione, diciamo. I ragazzi verranno coinvolti sulle tematiche dell'acqua, della sostenibilità in senso lato, quindi tutte le risorse disponibili sul pianeta Terra, diciamo, del nostro pianeta, e come potercele giocare a qual meglio da qui al prossimo futuro. Ragioneremo sul nostro ambiente, in particolare su quello della nostra provincia e faremo anche proprio degli esperimenti fuori all'aperto. Il tema dell'ecologia è stato al centro dello spettacolo formativo «Siam mica qui a farci salvare dai panda» di Michele Dotti, proposto anche agli studenti bellunesi. Lo spettacolo portava il tema dell'ambiente, dell'ecologia, ai ragazzi attraverso il linguaggio teatrale, in modo ironico e leggero, con l'intentativo di promuovere un passaggio da una visione della natura, dell'ambiente come un problema, a una visione della natura come un'opportunità, quindi l'ambiente come una straordinaria opportunità per creare occupazione, per difendere la salute, per promuovere la pace, i diritti. È un cambio di mentalità importante.